Parlare con Gesù, la preghiera, ma parlare con Gesù, l'amico più grande che non abbandona mai, confidare a Lui le vostre gioie e i vostri dispiaceri, correre da Lui ogni volta che sbagliate e fate qualcosa di male, nella certezza che Lui vi perdona. E parlare a tutti di Gesù, del suo amore, della sua misericordia, della sua tenerezza, perché l'amicizia con Gesù, che ha dato la vita per noi, è un evento tutto da raccontare. È stato l'ultimo e il più importante dei cinque suggerimenti di Papa Francesco al gruppo di bambini dell'Azione Cattolica Italiana, incontrati per l'ormai tradizionale appuntamento dello scambio degli auguri di Natale, Facendo riferimento al tema che la CR sta proponendo ai ragazzi, tutto da scoprire, il Papa ha suggerito di non arrendersi mai, perché quello che Gesù ha pensato per il vostro cammino è tutto da costruire insieme. Ha poi chiesto ai bambini di interessarsi alle necessità dei più poveri, dei più sofferenti, dei più soli, di amare la Chiesa, di voler bene ai sacerdoti, mettersi al servizio della comunità, perché la ricchezza di ognuno è un dono di Dio tutto da condividere. E infine essere apostoli di pace e di serenità, a partire dalle vostre famiglie, ricordare a tutti che le incomprensioni si possono superare, perché stando uniti a Gesù tutto è possibile.